hai capito l'inter no non la tiro hai capito l'inter mannaggia la miseria vince ancora una volta in zona no cesarini ormai quella è zona inter perché segnano sempre a quermin ciao siamo tornati con questo novito mi riappoggio ammazza il fagallo perché appunto ragazzi l'inter quinta vittoria è solo un pareggio quindi in battuta si ritrova a 16 punti a sole due lunghezze dalle prime in classifica che sono appunto juventus e napoli molti di voi mi diranno eh sì ma l'inter non è che sta a esprime tutto sto gran bel gioco eh ragazzi ma contano i punti eh non so se ve ne siete resi conto quelli stanno là e se continua così mi viene da dire che anche non esprime un gioco di quelli esagerati comunque l'inter potrebbe essere una delle candidate perché no al tricolore oh e continuano così in altra partita vince 1 a 0 ci stanno veramente degli allenatori non nel caso dei spalletti perché non mi sembra quel tipo di allenatore che alla fine le vince tutte 1 a 0 ma so tanti gli allenatori che riescono a porta a casa di misura parecchie vittorie che poi alla fine della stagione te fanno la differenza quest'anno potrebbe essere il caso dell'inter che cosa volete aggiungere no che cosa volete aggiungere ma che cosa vogliamo aggiungere sull'inter niente che ha vinto che i tre punti sono fondamentali e mi viene da fare il paragone con questo Milan che alla fine ha speso veramente tanto sul calcio mercato ma non riesce a portare a casa i risultati che vorrebbe parliamo anche della Lazio che vince 3 a 0 perché un amico mio mi ha detto se parli della Lazio e fai il post partita te do mezza piotta ecco caccia i sordi perché appunto Ciro immobile veramente un acquisto fondamentale per la Lazio la Lazio risolve tutte le partite ogni botta in attacca oggi ne ha fatte due una su calcio di rigore e porta 3 punti molto importanti per la Lazio che si avrà perso con Napoli tutto quello che vi pare ma pure la Lazio zitta zitta sta sopra la Roma seppur con una partita in più mi pare a 13 punti quarta in classifica veramente un ottimo risultato la Lazio sicuramente potrebbe essere una squadra che non dico facilmente ma se il Milan comincia a queste difficoltà potrebbe essere lei appunto la candidata al quarto posto la Roma per il momento sta sotto ma ancora votico e voi ripeto la devo inquadrare perché la voglio vedemmo contro il Milan come gioca e poi potremmo sicuramente tirare le somme che partita avete visto voi secondo voi l'Inter alla fine dei fatti ha meritato la vittoria a Lazio che voti che fa votate tipo grande fratello perché in questo momento sto per lasciare un sondaggio in cui vi chiederò appunto se chi è il porpettone intanto mi risale se l'Inter ha meritato la vittoria mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video mi sono stufato chiudo il video e tiro la stampella la lancio e vi faccio fare una brutta fine ciao